Lo conto come mio, bastardo! Fermati, preso! Ah, hai preso quello sotto! No, io sto sparando anche là in fondo, eh! Sceglia! Viva! Ah! Ok! Ok! Punto I5! Ok, i nemici! 6? Sì! Approfittiamone che loro staranno! Dai, andiamo! Oh, oh, oh! Sei fermo, sei fermo! Sì! Fuoco, fuoco, fuoco! Esco! Esco! Ce ne sono due di là! La stanza non va dritta! Ci sono due muri che rientrano! Dai vado! Puoi entrare qua dietro il muretto? Sì! Avanzo, avanzo! Sì! Preto! Madonna, dove gli è passato? Hai! No! Hanno la prima! No! Sì! Non è terminata! No! Ecco! Corri! Corri! Arrivano! Alcè? Alla ora! Sì! Grazie per la visione l'ho preso due volte Cristo alla terza è andata ce n'è uno nella seconda porta lo conto come mio bastardo hai preso quello sotto viva l'ho preso 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 A presto, a presto. A presto, a presto. 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 A presto.